Ancora tu? Ma non ti è bastata l'ultima volta? Io non volevo più vederti, sei un brutto carne cattivo, non sarai mai mio amico, hai capito? Amici, non so perché sei tornato, l'avete chiamato voi? No? Siete sicuri? Vabbè, comunque, Ben, che cosa ci vuoi qua? Che cosa vuoi da me? Ben, ben, ben Io dovrei riaprire l'app di Talking Bang perché devi dirvi un segreto Che faccio? La apro o non la apro? Se adesso tutti quanti voi vi iscrivete e lasciate like, posso pensare di aprirla Avete fatto? Ok, allora andiamo No, di nuovo no, che cosa vuoi? Perché mi hai fatto andare di nuovo su questa app? Perché continui a guardarmi con quello sguardo orribile? Facciamo un attimino una pozione, giusto perché voglio un attimino farti esplodere, ecco qua, un bel fuocherello che ti fa magari bruciare No, vero? Non funziona, vabbè, comunque, che cosa ci faccio io qui? Vediamo un poco, vediamo un poco se mi ha chiamato lui oppure questo qui, in realtà non è veramente lui Ben, sei stato tu a chiamarmi in questo momento? Yes Allora è tutto collegato, ma non è che questa è una bambola bodò? No Ha detto no Come no? Non me ne racconti giusta Ma perché è saccato il telefono? Posso voler dirmi qualcosa? Ciao, sono Ben Oddio! Amici! Amici! Ha parlato! Ma io non ho mai detto quelle cose! Ha parlato lui! Come è possibile? Padre si ricorderà sicuramente di me, ma come vedi adesso ho imparato l'italiano Mio, mio, mio padre, quindi Max, Max Random, si ricorderà sicuramente di lui e come vedi adesso ho imparato l'italiano Ma perché prima che lingua parlava, scusa, il canese? Tipo In questo momento ho chiesto di lasciare like e iscrivervi, dai, per piacere! Ok Ben, e allora che cosa vuoi dirmi? Rivelami questo segreto! Voglio farti conoscere il mio amico, però voglio esserci pure io Quindi vai sul Play Store e scarica Tom e Ben New Cosa? Devo scaricare una nuova app di questo cagliaccio? No, no, ti prego no! E poi chi è l'altro? Tom? Tom non era tipo il suo migliore amico? Ehi, ehi, ehi! Cioè, sì, l'altra volta l'avevo letto! Ok, ok Ben, ok Ben Allora, ti piglio un pochino schiaffi, ma adesso chiudiamo l'apps Perché devo assolutamente andare a scaricare all'interno del Play Store Tom e Ben Neves Talking Tom e Ben Neves? Oddio amici! Guardate qui! Ma quello lì sopra è Ben? E quello lì penso sia Tom Ma chi è quel gatto? Oh no! Che è il gatto? Non ci posso credere amici! Vediamo un pochino le immagini Oh mamma mia! C'è Ben e c'è pure Tom Ma sono tipo... Dove sono? Dove sono? Amici, non capisco Dove sono? Perché questo qui ha una pistola d'acqua in mano? Io... A me va schifo l'acqua! Molto meglio la coca e cole! Io me la bevo tanta, l'acqua non mi piace! No, 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 no! Ben! Che cosa fai? Perché sei armato? Io l'ho detto che tu non sei uno a posto con la capoccia! Io l'ho proprio detto! E c'ho ragione! Andiamo a leggere un pochino che cosa ne pensano i ragazzotti nei commenti! All'inizio non ho visto le spie negli occhi! Dopo ho visto attentamente si vedono nelle pupille! Possono essere soltanto due cose! La prima è che ci stanno spiando! Cosa? In che senso mi spia? Ben, no, 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 non mi direi queste cose! Che già non mi stai simpatico! Poi ho capito! Tom spia! Tu invece sei soltanto il suo schiamo! E infatti fai schifo, cioè... Io chiamo la polizia! Avete capito? Ho capito! Io lo faccio proprio alla polizia! Questa recensione è stata fatta da un bambino, ho capito! Un mio coetaneo! Tranquillo! Se qualcosa... Io non ti posso salvare perché mi cago un pochino sotto, sono sincero! Va bene! Allora andiamo a scaricare questa apps! Di nuovo questa cosa di quando sei nato a... Io ancora devo capire! Ma io sono nato nell'ospedale! Non sono nato... Va bene! Allora andiamo a mettere subito quando sono nato! Però non mi ricordo! Va bene! Ho bisogno di accedere al microfono! Pure tu! Pure tu! Amici! Amici! Io non ho cliccato niente! Mi stanno obbligando! Non ho obbligato neanche a fare i compiti! Che quelli non li posso mai fare! Cioè dai che schifo! Allora andiamo a mettere... Consenti! Oddio! Ma avete delle notizie per me? Ma che cos'è tutto il Ben Newsman? Avete delle notizie per me? Tom! Non l'ho capito! Perché Tom ha parlato? Ha ripetuto quello che ho detto? E Ben ha riso! Ben! Mi sta ancora prendendo in giro! E soprattutto perché mi hai fatto scavengare questa app? Che fa schifo! Fa schifo! Fa schifo! E adesso sta parlando Ben! Sembra che sono io con tanti pelli sotto le ascelle! Guardate la mia voce diventa grossa! Stai zitto però! Non mi interessa! Allora l'estate ci sono dei tastini! Vediamo che cosa succede se clicchiamo con i tastini! Tipo questo! No! Oh mio Dio! Ma quante armi c'ha Ben! No Ben ti prego! Non fargli del male! Povero Tom! Secondo me Tom è un bravo ragazzo! Anzi un bravo gatto! Perché cioè non è un ragazzo palese! Comunque vediamo un pochino che cosa succede! Perché lì ci sono due spade? Clicchiamo le due spade! Non mi ha fatto piccola anche me! Aiuto! Aiuto! Cerchi una nuova migliore amica? Scarica la mia attacking angela a due ore! Io non ho una migliore amica! Mi servirebbe una migliore amica! In realtà mi servirebbe una nuova crush! Non mi vuole bene! Comunque si cerco una migliore amica! Facciamo una cosa! Adesso dico di no! Ma nel prossimo video! Se questo video raggiunge 10.000 likes! Potremmo andare a scaricare questa nuova apps! Che ore sono? È l'ora che ti do un bello schiappone in faccia! Scusami! Scusami! Non volevo farlo così forte! Ehi! Come è stato picchiarmi? Io non ho detto quelle cose! Amici! O sono pazzo scatenato sgravato impazzito! Oppure... Quello lì ha parlato! Ma voglio capire un attimo una cosa! Perché quello lì nei commenti diceva che c'erano delle spie? Eccolo qui! Comunque questo gatto non me la racconta giusta amici! Io sono sincero con voi! Non mi piace proprio! Zero spaccato! E negli occhi a me adesso non sembra di vedere niente! Però sono sincero con voi amici! Io non ci vedo molto bene ultimamente! Secondo me devo iniziare a portare un po' gli occhiali! Però vabbè! Adesso non facciamoci caso! Comunque non vedo nulla di strano amici! Fatemi sapere se voi nei commenti vedete qualcosa all'interno dell'occhio! Magari io mi sto perdendo qualcosa! Fatemi sapere mi raccomando! Perché capace che io non vedo niente! Sono abbastanza stupida sì! Nel dubbio andiamo a dare un'occhiata anche da Talking Ben! E vabbè ma lui ha gli occhi minuscoli cavolo! Sapete che c'è una leggenda che dice Chi ha gli occhi più piccoli è più stupido! Quindi tra questi due Ben è più stupido! Per questo dico che secondo me Se c'è qualche piano diabolico Il capo è Tom! Ma mamma mia! Dovete chiamarmi Maxino il detective! Ogni mistero per me! Maxino! Non è più un mistero! No! La pistola d'acqua! Oh no! Cosa? Gli ha lanciato una pallina? Le mie orecchie! Le mie orecchie! Ma invece se picchio ben che cosa succede amici? Io ho paura sinceramente! No! È caduto! E se invece faccio così? Mi fa molta paura! Basta picchiarci! Papà! Sei stato tu a dire queste cose? Che cosa? Sì! Quella era la voce di Ben! Ho capito! Ma è normale che parli no? Perché se è normale va bene! Allora iniziamo a parlargli! Ciao Ben! Come va? Sono meglio io di Ben! Che c'è? Ha risposto Tom's! Che c'è? Ti stupisci pure? Prima hai detto bene! Io sono molto più intelligente di lui! Ok! Ha detto che non è più intelligente! Però bene ha riso! Quindi mi sa che non è molto d'accordo! Però aspetta! Come fa a sapere che io prima ho detto quelle cose? Mentre io le ho dette quando l'ho appena chiusa! Perché mi sembra abbastanza strano! Non è che questi ci spiano grazie al microfono? Se adesso faccio una scurrigia davanti al microfono che cosa succede? Schifo! Oddio! Hanno sentito la mia puzza! Com'è possibile? Oddio! Ragazzi ho trovato il metodo per sconfiggere questi del maledetto! Possiamo scorrigiare gli in faccia! Sì! Stiamo arrivando! Sì! In che senso? No! Ah! Ah! Chiudi! Chiudi! Aiuto! Era meglio se non ascoltavo quel maledetto Ben! Non devo assolutamente più scaricare nessun'app di questi due!